Bella regà, come va? Mo sto a fare una bella passeggiata Fa un freddo fa Fanno 5 gradi E io già sto con il giacchetto pesante Fa un cavolo di freddo E niente, io dopo ho mangiato mi faccio proprio una bella passeggiata Cioè sta proprio bene secondo me Dopo ho mangiato e niente E volevo di... Che niente, che a breve Se mi fanno parlare le macchine Poi va bene Che poi c'è sto vizio che mi faccio fare passeggiate Mezza strada però E che cercherò di fare dei video Un po' più corti Perché mi sono reso conto che i video Che ho fatto Che sono pochi, due Duravano mezz'ora E adesso è un po' troppo Quindi cercherò di farli un po' più brevi Un po' più... Cercherò la qualità ancora, no regà? Perché ancora neanche so che camera compra Quindi... E niente E a breve vi vorrei mostrare anche Qualche sgarro che farò Penso la prossima settimana Mo' vediamo E niente Ah, volevo mettere anche qualche video Di quando mi vado a allenare E niente raga Io... Io mi finisco la passeggiatina Perché mi ho preso a fare sta passeggiatina Dopo... Dopo aver mangiato Mi aiuta molto Mi aiuta molto, cavolo Faccio quattro chilometri Quattro chilometri abbassano E niente Vi saluto E... Niente Grazie raga Bella Bella raga Buonasera Oggi vi voglio portare un altro contenuto E... Però oggi mi trovo in palestra Alla Nordicuennes È una palestra svedese E niente Mo' mi vado a allenare Oggi petto Spalle E tricipiti Se ci riesco vi faccio vedere pure qualche cosa Con i capelli Ok Dai Bella raga Buonasera Oggi vi voglio portare un altro contenuto E... Però oggi mi trovo in palestra Alla Nordicuennes È una palestra svedese E... Niente Mo' mi vado a allenare Oggi petto Spalle E tricipiti Se ci riesco vi faccio vedere pure qualche cosa Con i capelli Ok Dai E I Niente Grazie a tutti 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 Grazie a tutti